Buon pranzo Capoccio Rossonere, buon pranzo a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con l'argomento del giorno, un argomento che è veramente a cui tengo tantissimo e chi segue questo canale dal primo giorno lo sa anche meglio di me non dimenticate mai la formuletta magica, like al video, commentate, condividetelo con gli amici soprattutto ragazzi, iscrivetevi al canale con un velocissimo gesto dato un supporto enorme e soprattutto andate subito ad iscrivervi ai canali di Domebet e Iosip Iosef, due grandi cuori rossoneri che con cui proprio mercoledì alle ore 17 farò una diretta insieme a loro dal canale di Domebet dove praticamente parleremo un po' di tutti gli argomenti in orbita Miral mi raccomando ragazzi non perdetela perché se ne vedranno delle belle detto questo, prima di cominciare, anzi direi che possiamo anche cominciare perché il preambolo è stato troppo lungo volevo in qualche modo un po' tirare le orecchie anche ai tifosi milanisti ovviamente in senso bonario numero uno perché ragazzi siamo nel 2023 credo che ognuno di noi possa avere un parere e possa esprimerlo nel migliore dei modi il calcio non è una scienza esatta, non è perché c'è un allenatore che allena una squadra di serie A allora tutto quello che fa quell'allenatore è giusto proprio perché fa l'allenatore si tratta di appunto non scienza quindi qualsiasi cosa da parte di un allenatore è opinabile per me che sono tifoso così come per voi, ognuno può dire la propria può dire la sua senza in qualche modo risultare offensivo senza insultare, senza sbraitare e così via se io non condivido una scelta di Pioli o non condivido una scelta di all'allenatore X che sia Allegri non è perché il tifoso giuventino allora Allegri l'allenatore della Juventus può assolutamente non dire niente perché tutto quello che fa Allegri dato che l'allenatore è sempre giusto e sempre corretto non è così, non è così io sono uno dei più grandi sostenitori di Pioli del giorno 1 lo sapete, lo sarò sempre perché ovviamente non è un allenatore che assolutamente merita meritare sonoro però quando sbaglia qualcosa c'è da dire per me Pioli quest'anno ha sbagliato in un periodo di confusione ha sbagliato qualche lettura di partita, ha sbagliato qualche cambio e soprattutto ha sbagliato la scelta dei nuovi arrivati la scelta per quanto riguarda i nuovi arrivati del mercato sicuramente è stato un mercato al di sotto delle aspettative al momento ma non lo possiamo dire per certo anche perché molti dei nuovi arrivati non hanno giocato detto questo ragazzi il video è proprio sul nuovo arrivato un giocatore che io personalmente andrò a difendere sempre a spada tratta e tiro le orecchie ai tifosi rossoneri che lo criticano perché i tifosi rossoneri hanno sempre a memoria troppo corta perché io posso portare l'esempio di Tonali che veniva dall'Italia direttamente dopo una stagione in Serie A ha fatto un primo anno ai limiti del 5 al Milan posso portare l'esempio di Leao che prima di diventare il fenomeno che ci ha portato per mano a vincere lo Scudetto noi ci siamo dovuti sorbire due anni di Leao dove faceva una partita da 7 e 7 da 4 io disblocco questi ricordi vi ricordo di Calulu che non è che è arrivato e ha giocato subito bene ma è passato comunque sono passate delle prestazioni brutte delle prestazioni condite da errori che ci hanno fatto perdere punti posso portare l'esempio di Pacheta Pacheta che è venuto al Milan un giovane pieno di belle speranze tecnica sopraffina si sapeva che Pacheta era forte ok problemi suoi perché non si è ambientato è subentrato alla depressione in questi casi non si scherza mai poi ha subito il vortice di brutti risultati del Milan Ninja Paolo di confusione ha subito la svolta tattica ragazzi poi Pacheta cosa ha fatto? è stato venduto a Lione è diventato per due anni di fila vuotato nella squadra francese migliore dell'anno migliore mezzanile in Francia si è preso la nazionale ed è stato preso a suon di milioni da West Ham quindi i giovani sono forti i giovani vanno aspettati e lo dico sempre perché dico questo? perché l'argomento del giorno è proprio il principino belga nonché mio figlioccio Charles de Ketelar ragazzi porca puttana smettete di criticarlo è facile dire che in questo momento non la butta dentro con le mani che è sempre un bimbo scemo e cose del genere ma a parte che offendete un ragazzo che già di per sé ha enormi difficoltà perché io vi ricordo che le persone i giocatori non sono robot bravi che non subiscono l'emozione che non subiscono le pressioni ci sono giocatori alla Ibrahimovic più bravi nel caricarsi e nello sfruttare i fischi gli insulti come benzina per rendere di più giocatori che invece hanno bisogno un po' di più di essere coccolati De Ketelar veniva dal Belgio una stagione che l'ha visto assolutamente protagonista ha segnato in Champions ha fatto la differenza in ogni partita praticamente ha segnato una valanga di gol giocando da seconda punta a barra trequartista in un 3-5-2 ok è venuto in Italia di base il suo ruolo in un campionato tattico come l'Italia il ruolo di trequartista è molto complicato inizialmente lui gioca in un 4-2-3-1 come trequartista ma qui gli spazi non sono come in Belgio non sono come in Champions qui praticamente il trequartista viene marcato stretto quindi per un giovane del 2001 non è semplice arrivare e fare la differenza ma l'avevo detto l'avevo detto andatevi a vedere il video di presentazione dovete dare quel calciatore che viene preso come prospetto di campione che viene levigato per diventare un campione servirà un anno due anni di ambientamento ovviamente il secondo anno non sarà come questo qui dove praticamente non ha fatto nulla ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare però se voi che andate allo stadio iniziate a fischiarlo se voi andate nelle sue social iniziate a insultarlo non agevolate la situazione non agevolate anche perché ragazzi voi non dovete dire però è pagato 35 milioni deve fare la differenza subito non funziona così non funziona così in un'epoca in cui un giovane brasiliano di 16 anni viene pagato 60 milioni quindi voi dovete vedere che dovete vedere innanzitutto da dove viene il giovane quanto viene pagato quanti anni ha perché non è che se De Ketelar viene pagato 35 milioni allora è obbligato a fare la differenza dal primo anno perché tu paghi i 35 milioni per la prospettiva per la forza per le qualità che ha quel giocatore in Italia bastano 6 milioni dove praticamente un difensore arriva sputa in campo e ti chiedono 15 milioni come il caso di Lovato col Milan capite bene il perché De Ketelar non deve essere criticato il perché deve essere aspettato il perché deve essere coccolato perché sono sicuro che alla lunga farà vedere quanto vale e si prenderà il Milan per mano quest'anno ovviamente non è stato agevolato nel suo impiego perché purtroppo Diaz sta facendo una stagione un'ottima stagione sta giocando sempre bene è difficile elevarlo dal campo soprattutto in un momento in cui la squadra è in calo fisico e lui è quello che comunque è un funambolo corre sempre riesce sempre a procurare il fallo la punizione pericolosa quindi sta patendo questo quest'anno sicuramente Diaz andrà via secondo le ultime notizie Reale è intenzionato a tenerselo quindi lo ringrazieremo quando sarà lo saluteremo con affetto ma le sue retini verranno prese proprio da CDK il Milan mettetevelo bene in testa non è nelle condizioni per poter comprare e lo ripeto all'ennesima volta fino a che in qualche modo non riuscirete ad assimilare l'informazione non è nelle condizioni per prendersi il giovane che viene da due anni fenomenali come può essere Sancho come può essere cazzo ne so lo stesso anche Colomuani vi faccio un esempio di Colomuani il Milan ha cercato in tutti i modi di prenderlo l'anno scorso come punta perché lo vedeva forte perché lo vedeva la punta del futuro a 10-12 milioni lui è voluto andare in Germania perché è convinto al campionato tedesco che riusciva in qualche modo ad esaltare più le sue qualità di velocità e di contropiede benissimo la scelta sua è stata corretta è andato lì ha fatto il fenomeno quest'anno se vuoi prendere Colomuani sicuramente non lo prenderemo noi a 50 milioni che ti chiedono ma lo prenderà la squadra di Premier Newcastle e chi che sia noi dobbiamo prendere i giocatori quando sono ancora un leggero step indietro purtroppo purtroppo quando arriverà allo stadio di proprietà quando ci saranno nuovi introiti allora cambierà la visione allora cambieranno i soldi cambieranno gli acquisti che possiamo fare possiamo comprare per esempio il Botman dopo un anno al Newcastle dove ti chiedono 45 milioni 50 milioni e non come abbiamo fatto noi che volevamo prenderlo per circa 25 l'anno prima cambierà tutto ma finché siamo in questa prospettiva non ha senso lamentarsi non ha senso insultare i giocatori non ha senso andarci contro date fiducia perché io sono della Dani pensiero De Ketelar ha tutto tutto per esplodere non gli manca nulla fisicità tecnica visione di gioco tiro colpo di testa ecletticità può giocare in più moduli in più ruoli è un giocatore forte e come tale va coccolato e tenetevi forte coccolatelo amatelo perché vi assicuro che non ve ne pentirete qualora De Ketelar dovesse fare schifo schifo bene e compassione perché tra le tante cose non è che sono tutti ciechi già si parla di offerte che il Mila sta ricevendo dall'Ester dal Newcastle addirittura si parla di interesse del PSG non è che queste squadre sono pazze è perché vedono in De Ketelar ciò che ha visto Maldini ciò che ha visto Moncata ciò che ha visto Massara un diamante pronto ad esplodere e a levigarsi detto questo ragazzi il video finisce qui spero che sia riuscito insomma a trasmettervi quella che è la mia sensazione le mie impressioni su De Ketelar mi raccomando sostenetelo like al video commentate condividetelo con gli amici soprattutto iscrivetevi al canale qui cliccate fatto perfetto bella raga a domani a domani mi raccomando di Ketelar a domani